In questo video vedremo alcune strategie per risolvere le divisioni quando il quoziente non è un numero intero, ma è un numero decimale. Proviamo a calcolare 3 diviso 2. Metti in pausa il video e prova a risolvere questa operazione da sola. Ti darò un indizio, non viene un numero intero. Bene, ora proviamoci insieme. E come sempre in matematica esistono diverse strade che puoi utilizzare per risolvere i problemi. Qui una strategia è risolvere 3 diviso 2 come una frazione. Quindi possiamo scriverlo come 3 fratto 2 oppure 3 mezzi. Ma come facciamo a esprimere questa frazione come un decimale? Potresti riconoscere che 3 mezzi equivale a 2 mezzi più un mezzo. Lo scrivo 2 più 1 fratto 2. Faccio un passaggio alla volta così che è più chiaro. Questo equivale a 2 fratto 2. Ecco 2 fratto 2 più 1 fratto 2. Eccolo qui. Posso spezzare questa frazione grande di 2 fratto 2 e 1 fratto 2. E 2 fratto 2 è semplicemente 1. E quindi abbiamo 1 e 1 mezzo. E ora forse riconosci che possiamo riscrivere 1 mezzo come 5 decimi. Perché quando scriviamo i numeri in forma decimale li possiamo esprimere come decimi o centesimi o millesimi. Quindi in tutto è 1 e 5 decimi. E se vogliamo riscriverlo come un numero decimale equivale a 1 e 5 decimi cioè 1,5. Qui ho fatto tutti i passaggi per farti vedere bene come funziona. 3 diviso 2 è 3 mezzi. Il 2 sta nel 3 una volta con il resto di 1. Quindi il numero misto è 1 e 1 mezzo. E 1 mezzo scritto come decimale è 0,5. Quindi in tutto 1,5. Un altro modo per affrontare il problema è dire ok otterrò un numero intero ma forse arriverò ai decimi. Allora riscrivo il problema con i decimi. A quanti decimi equivale 3? 3 sono 30 decimi e dobbiamo ridividere per 2. 30 decimi diviso 2 è uguale a 15 decimi che equivale a 10 decimi e 5 decimi cioè 1 e 5 decimi. Queste sono strategie e entrambe valide per capire quanto 3 diviso 2 fa. Io forse preferisco la prima perché utilizzare frazioni ma facciamo un altro esempio magari più di un esempio è abbastanza divertente. Per esempio qui vogliamo calcolare quanto fa 34 diviso 4. E come prima metti in pausa il video e prova a risolvere questa divisione da solo. Provo a autorizzare una delle strategie che abbiamo visto finora qui. Bene abbiamo visto che possiamo riscrivere la divisione come una frazione. Questo equivale a 34 fratto 4 o 34 quarti. E a cosa sarà uguale? Beh il 4 sta nel 34 8 volte. Quindi scrivo 8 e abbiamo il resto di 2. Quindi 8 e 2 quarti. 8 e 2 quarti. Ripetiamo il 4 sta nel 34 8 volte con il resto di 2. Quindi 8 e 2 quarti. Se vuoi vedere tutti i passaggi puoi riscrivere 34 quarti come 32 fratto 4 più 2 fratto 4. E 32 fratto 4 equivale a 8. Quindi 8 e 2 quarti. Ma 2 quarti è equivalente a un mezzo. E se vogliamo esprimerlo con i decimi il risultato sarà 8 e un mezzo equivale a 5 decimi. Quindi 8 e 5 decimi. oppure 8,5. Ecco fatto. Facciamo un altro esempio. Facciamo un esempio in cui dividiamo un numero decimale. Qui per esempio abbiamo 8,4 diviso 7. Metti in pausa il video e prova a risolvere la divisione da solo. Se lo guardi potrebbe venirti in mente che 84 è divisibile per 7. Se ricordi la tabellina del 7 sappiamo che 7 per 12 fa 84 e quindi 84 diviso 7 è uguale a 12. Ma qui non è 84. Qui abbiamo 8,4. Come si fa? Un modo è pensare ai decimi. 8,4 è uguale a dire 84 decimi. Quindi 84 decimi diviso 7. Beh 84 cose diviso 7 sono 12 cose. Quindi 12 decimi. E possiamo riscrivere 12 decimi come 1 e 2 decimi o come 1,2. ecco fatto. Il risultato è 1,2. Un altro modo di ragionare è dire che 84 decimi è la stessa cosa di 84 fratto 10 che infatti si legge come 84 decimi. E vogliamo dividere questa frazione per 7. Quindi diviso 7. Ma dividere per qualcosa equivale a moltiplicare per il reciproco. Quindi è 84 fratto 10 per un settimo. Che equivale a, possiamo riscriverla così, 84 fratto 10 per 7. E ora possiamo semplificare. Se dividiamo numeratore e denumeratore per 7, 84 diviso 7 è 12 e 7 diviso 7 è 1. E 12 diviso 10 sono 12 decimi, che equivale a 1,2. E posso scriverlo così oppure posso scriverlo come 1 e 2 decimi come numero misto. Facciamo ancora un altro esempio. Vogliamo capire quanto fa 7 diviso 70. Metti ancora in pausa il video e prova a farlo da solo. Come prima, possiamo riscriverlo come frazione, come 7 fratto 70. Ma invece di scrivere 70, scrivo 7 per 10. E ora possiamo dividere numeratore e denominatore per 7. Se dividiamo il numeratore per 7, otteniamo 1. Dividiamo il denominatore per 7 e otteniamo 1. Ricorda, l'importante è fare la stessa cosa al numeratore e al denominatore. Se moltiplichiamo o dividiamo per lo stesso numero, il valore della frazione non cambia. Quindi ci resta un decimo e come numero decimale è 0,1, ossia un decimo. Un altro modo per ragionarci è che 7 diviso 70 è uguale a dire 7 diviso 7 e poi diviso 10. È equivalente a quello che abbiamo scritto nella frazione. Avevamo 7 diviso 7 e poi diviso 10. Ma 7 diviso 7 è 1 e 1 diviso 10 è un decimo.